Sono contento del gruppo che ho messo e le cose che posso portare avanti sarebbe stato più facile in maggioranza, ma anche in minoranza esisterò in particolare sulla viabilità, sulle porcherie che stanno uscendo, ho già interpellato la provincia, ho già preso postamenti, ma l'altro indipendentemente dall'esito su queste, sulle varie mie, poi naturalmente in minoranza fai quello che vuoi. Loro hanno preso in mano da tempo e fatte sparire l'associazionismo a calco, a parte uno che ha resistito, che non so se ha resistito veramente, come si chiama la scuola della musica, a parte questo, il gemellaggio, l'associazione Cristina, ha cominciato feste, Prima fatti cadere e poi ripostruiti con tutta l'interrore, questo lo vedi danni, e noi siamo partiti, noi, non è che siamo partiti tanti, non ci avevamo intenzione di farlo, ci avevamo che ci fosse qualcun altro. Grazie.